Buongiorno a tutti, parliamo anche oggi di coronavirus per fornire un aggiornamento sui numeri. Sono 6 i casi di positività ufficiali e 20 le quarantene. Non c'è uno scostamento significativo rispetto ai dati registrati nell'ultimo mese per cui il trend si conferma stabile e questo è indicativo di comportamenti della comunità che sono sostanzialmente corretti e rispettosi dei parametri delle misure di comportamento che ci sono imposte. In tema di vaccinazione l'amministrazione comunale ha fornito al servizio di igiene e sanità pubblica i dati richiesti relativamente alle fasce di popolazione che saranno in un primo momento sottoposte al vaccino. Sono stati richiesti i numeri degli ultra settantenni e ultra ottantenni che complessivamente ammontano a 537 con una percentuale di 20% sull'intera popolazione. Quindi dove si svolgeranno le vaccinazioni? Oltre i numeri c'è stato richiesto di fornire la disponibilità di un locale e a tale proposito abbiamo individuato i saloni parrocchiali. Dunque essendo di proprietà della parrocchia di San Sebastiano ho sentito il parroco Don Guido Marrosu che concorda pienamente sull'esigenza di mettere a disposizione i predetti saloni per il perseguimento di un fine nobile, la tutela della salute pubblica. Pertanto abbiamo fornito i numeri, abbiamo dato la disponibilità immediata dei saloni parrocchiali che se sarà confermata saranno sottoposti a procedure di sanificazione opportunamente adeguati per la vaccinazione. Attendiamo adesso che la TS ci dia riscontro sui tempi per l'avvio della vaccinazione. È un momento fondamentale e potrebbe essere la svolta anche alla luce del rischio che si palesa all'orizzonte per le varianti del coronavirus di cui tutti abbiamo sentito parlare. Un ultimo importante messaggio concerne l'appello al senso civico. Ho ricevuto molteplici segnalazioni per l'abbandono di mascherine su pubblica via. Allora immagino che siano prevalentemente minori coloro che o all'uscita da scuola o durante il tempo libero abbiano abbandonato e gettato mascherine utilizzate per strada. L'appello, come ho detto, è a mantenere il decoro urbano e la pulizia e a rispettare il senso del bello mantenendo pulite le nostre strade ed evitando di tenere comportamenti irriguardosi verso il prossimo. La polizia locale sarà incaricata di verificare qualora si rilevi la presenza di mascherine su strada e di procedere a identificare i responsabili e successivamente anche a sanzionare questi comportamenti che non sono assolutamente corretti e accettabili. Non ci sono altre informazioni importanti per cui auguro a tutti una buona giornata.